Bene, vediamo oggi la terza parte del lavoro per creare la simulazione con EJS che è quella che vede la parte grafica, cioè l'avremo nel pannello view abbiamo visto la descrizione e qui la compileremo alla fine il model, cioè la parte di calcolo abbiamo compilato la lista delle variabili che ci interessano abbiamo inizializzato R, distanza dal centro del nostro elettrone distanza dal nucleo per capirci l'accelerazione e le energie nella finestra di evoluzione abbiamo scritto l'algoritmo di Verlet che aggiorna le posizioni e l'accelerazione e quindi la velocità e nelle relazioni fisse, ok, ci manca, cioè abbiamo messo il calcolo dell'energia fotogramma per fotogramma a dire la verità ci manca ancora un pezzo nell'evoluzione quindi se aprite anche voi il vostro file il vostro, il programma moto cariche 01 e vi ricordate come funziona l'algoritmo di Verlet appunto, l'aggiornamento che consiste in salta il punto chiave è nell'aggiornare la velocità in ogni passaggio da un fotogramma successivo l'algoritmo aggiorna la velocità utilizzando la media tra le accelerazioni del fotogramma attuale e quello del precedente però chiaramente in questo modo userà sempre come a x0 cioè accelerazione iniziale quella del fotogramma di partenza quello al tempo zero invece bisogna dire che nel prossimo fotogramma utilizzerà come accelerazione iniziale quella del fotogramma attuale cioè dobbiamo aggiornare anche a x0 quindi alla fine metteremo a x0 uguale ad a x e a y0 uguale ad a y0 in questo modo alla prossima step al prossimo passaggio al prossimo salto tra il fotogramma e il successivo userà la media di accelerazione tra il fotogramma attuale e quello precedente che è quello che vogliamo questo ieri mancava, mi ero dimenticato di scriverlo fatto questo salvo saldiamo e passiamo alla parte grafica l'avete fatto? bene per fare questo passiamo nella finestra view andiamo in alto clicco su view e mi appare la finestra di lavoro a questa la facciamo un po' più grande vediamo se siamo da allargarla a questa struttura abbiamo l'area di lavoro vuota qui sulla destra abbiamo tre zone di strumenti sono divisi in tre grosse categorie l'interfaccia li tracciabili in due dimensioni quindi sul piano e i tracciabili, cioè i disegnabili in tre dimensioni che questa volta non utilizzeremo allora immaginate proprio di dover fare un disegno che cosa vi serve? beh, vi serve un qualcosa su cui scrivere e questo qualcosa è la nostra cornice il frame quindi andiamo nelle menu interfaccia quindi la zona cioè negli strumenti di lavoro la zona in alto questo riquadro in alto nella seconda etichetta abbiamo tutte le interfacce possibili e clicchiamo sulla prima che è proprio il frame cioè la nostra cornice è come se dovessimo fare un quadro in sostanza o lo schermo di un proiettore per fare questo clicchiamo una volta col pulsante sinistro vedete che adesso appare un bordo viola sull'icona e dopo senza cliccare niente solo spostando il mouse vedete che il mouse diventa una bacchetta magica c'è proprio una bacchettina con le stelline questa bacchettina dice sto per creare un oggetto andiamo su Simulation View che rappresenta lo schermo del nostro computer cioè la vista della simulazione e clicchiamo una volta dice ok, creiamo un frame come vuoi chiamarlo? beh, possiamo dargli un nome un nome che tipicamente potrebbe essere per esempio il nome del nostro programma quindi moto cariche sicuramente anche 01 ok, in questo modo vedete, viene creata ecco, sulla sinistra appare la nostra icona la nostra finestra, scusate e il titolo della finestra è proprio il nome che abbiamo dato al frame moto cariche 01 qui EJS lo crea con dimensioni standard che ovviamente a noi non è detto che vadano proprio bene quindi andiamo a fare per modificare le caratteristiche di questo oggetto di questo oggetto grafico questo contenitore questo frame torniamo sulla finestra di EJS nel pannello view e faccio doppio clic su moto cariche e mi si apre un'altra finestra dove ho tutte le caratteristiche di questo pannello lasciamo il nome quello che è lo abbiamo appena dato e modificheremo invece il layout che è la terza opzione anziché border clicchiamo sulla prima icona sulla destra e selezioniamo vertical box questo significa che la nostra cornice sarà conterà diverse aree impilate verticalmente tra un attimo vedrete il perché poi clicco su ok quindi la chiudo e la location lasciamo quello che è andiamo invece a modificare le dimensioni size prendiamo per esempio facciamolo più grande almeno il doppio 600 direi e un 700 in questo modo vedete che il computer immediatamente adatta applica le modifiche che ho apportato il pannello grafico quindi il nostro frame è diventato più grande d'accordo quindi anche qui chiudo sul quel pulsante rosso in alto a sinistra chiudo la finestra adesso abbiamo modificato la finestra il pannello che conterrà la simulazione la grafica della simulazione ok questo è un frame in questo la nostra cornice in questa cornice andremo a mettere come faremo per esempio con che ne so con un foglio di carta andiamo a definire un'area che conterrà i nostri oggetti grafici praticamente un oggetto che rappresenta il nucleo e uno che rappresenta l'elettrone in moto attorno al nucleo attorno al protone per far questo andiamo ad aggiungere all'interno del frame altri pannelli d'accordo il pannello successivo che è quello che conterrà il disegno cioè la parte grafica lo troviamo sempre nel menu interfaccia ma è la prima nella seconda riga questo che si chiama join panel cioè pannello dove posso disegnare quindi clicco una volta su questo anche questo acquisisce un bordo viola che mi dice che è selezionato poi senza tener schiacciato niente semplicemente sposto il mouse vedete che il mouse diventa il puntatore diventa sempre una bacchettina magica vado su moto cariche 01 e clicco una volta e mi chiede ok creo un pannello per il disegno come vuoi chiamarlo lasciamogli quel nome lì lasciamo il drawing panel non è un problema ok ecco che adesso vedete che il nostro frame ha acquisito uno sfondo diverso perché ci sta mostrando questo pannello su cui faremo i disegni d'accordo allora qui doppio clic anche qui per vedere le proprietà mi dà tutte le caratteristiche del nostro pannello del nostro foglio di disegno ecco chiamiamolo proprio col suo nome mi dice le prime due autoscale x e autoscale y lasciamo le false perché non vogliamo che si autoscali in x e y che cosa significa questo autoscala significa che il disegno comunque rimarrà all'interno del pannello in alcuni casi potrebbe essere utile però nel nostro caso no perché questo produrrebbe una distorsione nella scala dell'immagine quindi lasciamo stare le prime due opzioni le autoscale lasciamo le false andiamo invece a modificare le coordinate quindi le dimensioni ecco in termini di coordinate cartesiane nel nostro pannello quindi qual è la minima x la x più a sinistra quella più a destra la y più in basso quella più in alto vi ricordate che abbiamo nel modello abbiamo inserito una grandezza L maiuscolo che era mi pare 3 che doveva esserci quella che ci dà le dimensioni del nostro disegno qui non facciamo altro che utilizzare quella grandezza quindi la minima x sarà meno L meno L maiuscolo quella più a sinistra la massima x sarà L e lo stesso vale per la y meno L L quindi se L era 3 mi pare quindi adesso le nostre x vanno da meno 3 a 3 e la nostra y da meno 3 a 3 ok vedete che se io scrivo su un pannello questo diventa così su un bordo giallo ok se io scrivo qualcosa che non ho definito mettiamo L L diventa rosso dice guarda che stai usando una cosa che non esiste non c'è un errore perché L L non l'abbiamo mai definito L invece sì quindi scrivo L batto invio e il pannello è bianco quindi vuol dire che la grandezza esiste è corretta ok il resto va tutto bene lasciamo così quindi a questo punto abbiamo definito quindi clicco sopra per chiudere la la finestra abbiamo quindi la nostra cornice che contiene l'area di lavoro della simulazione nell'area di grafica abbiamo un pannello grafico che conterà il disegno che ci mostra la simulazione e poi aggiungeremo alcune altre cose nel disegno cosa andiamo a rappresentare? andiamo a rappresentare per la per prima cosa il nucleo quindi lo disegneremo come un circolo come un tondino una pallina che sta ferma al centro del nostro sistema di coordinate per inserire un oggetto di questo tipo andiamo sulla zona della centrale delle tre aree di lavoro che abbiamo sulla colonna di destra e andiamo nei tracciabili a 2D e vedete la prima icona che trovo le shape cioè le forme è quella che ci interessa quindi clicchiamo una volta su shape tolgo il dito dal mouse sposto il mouse sulla sinistra il puntatore si trasforma sempre nella bacchetta magica vado su join panel quindi devo indicare dove voglio mettere questo oggetto all'interno di cosa e clicco una volta e mi dice ok creiamo una shape che nome vuoi dargli? beh io direi protone P chiamiamolo P piccolo o protone proprio d'accordo e lui mi crea una pallina vedete al centro del sistema di colore azzurro azzurro scuro per cambiare le caratteristiche di questo oggetto faccio doppio clic su protone e lui mi dice qual è la sua posizione x che è 0,0 la y anche perché il protone sarà fermo al centro ok se volete possiamo cambiare anche le dimensioni in x e in y 0,2 e 0,2 un po' più grande possiamo vederlo meglio non c'è problema il resto può stare così com'è ok quindi qui abbiamo creato una una pallina una sfera un cerchio ecco che sta nell'origine del nostro sistema di coordinate a determinate dimensioni e sta lì fermo dov'è ok quindi questo possiamo chiuderlo adesso ci manca di visualizzare l'elettrone e anche quello sarà una pallina quindi riclicco su shape una volta riporto il mouse all'interno di drawing panel quindi quando qua sopra clicco una volta e mi dice cosa vuoi creare una shape che si chiama elettrone d'accordo e qui vedete me ne creerà un altro sopra non lo vedo perché sono sovrapposti per modificare le proprietà e questo qui lo dobbiamo fare per forza perché se no non vedremo niente clicchiamo due volte su elettrone e mi dice qual è la sua coordinata stavolta le coordinate sono x per la x ovviamente e y per la y che il computer si incarica di calcolare volta in volta quindi qui il computer userà i risultati dei calcoli che ha fatto per la x e per la y per posizionare nel nostro disegno la pallina che rappresenta l'elettrone diamo le dimensioni simili a quella del protome 0.2 0.2 e cambiamo il colore andiamo quindi sull'ultima colonna di destra dove c'è il fill color disegniamolo come in verde ok e lo stile vabbè insomma quello stile di default è lo sferico quindi che è già selezionato teniamoci quello all'x ok chiudiamo questo adesso se andiamo a guardare sul nostro pannello vediamo anche una pallina verde a fianco dell'elettrone ricordate che le coordinate iniziali erano 1 per la x e 0 per la y ok ci siamo fin qui sì ma perché nel suo schermo l'elettrone ha tipo una cosa al centro è il cursore è il cursore scusami adesso in teoria avremo fatto praticamente tutto cioè se io adesso salvo e mando in esecuzione ok cosa vi aspettate che succeda certo proviamo a farlo salvate se non abbiamo errori il computer dovrebbe mostrarci il nostro pannello il frame col pannello dentro e l'elettrone in moto l'elettrone che gira attorno al nostro nucleo riuscite a vedere ditemi se anche nel vostro caso funziona in questo modo ho salvato sempre con lo stesso nome fatemi ripeto adesso chiudo la simulazione clicco sul tasto rosso che la ferma torno nel modo editor e basta cliccare sulla quarta icona save to file e lui la salva aggiornando quanto ha salvato prima quindi qui salva quello che ho fatto fino ad adesso senza cambiare il nome se invece clicco sul discreto immediatamente sotto salva ma mi chiede se voglio cambiare il nome ok allora cosa possiamo fare per migliorare la simulazione beh possiamo aggiungere la un oggetto grafico che ci dà la traiettoria per esempio vorremmo dire al computer beh mostraci anche la traiettoria dell'elettrone per far questo sempre nei tracciabili 2d quindi nei 2d drawballs quella l'area centrale quella dove c'era l'icona shape in fondo vedete che c'è una trace la traccia selezioniamo quella con un clic del mouse andiamo sempre sopra join panel perché dobbiamo cliccare l'ambiente nel quale l'oggetto grafico verrà creato clicco una volta e mi dice creo una traccia come vuoi chiamarla la chiamo traiettoria ok doppio clic su traiettoria per modificare le proprietà dice che cosa vuoi tracciare beh voglio tracciare la x e la y del mio elettrone quindi x e y il resto possiamo lasciarlo così cambiamo solo il colore il line color direi di farla come potremmo farla viola rossa vedete voi sono quello che vi piace di più faccio un viola e quello che c'è appena sotto stroke ci dice quanto spesso è la traccia io metto un 3 così si vede meglio ok adesso se salvo e torno in esecuzione mi mostrerà il moto del nostro elettrone ma mi lascia anche la traccia della traiettoria seguita dall'elettrone stessa che nel nostro caso come l'abbiamo configurato dovrebbe essere una circonferenza perché il livello della distanza dal nucleo e la velocità di partenza è quella che dell'orbita basica insomma dell'elettrone che è quella circolare però io se clicco la precetta verde per iniziare la simulazione mi si chiude la finestra con il protone e l'elettrone e se clicco per chiuderla mi si riapre però rimane sempre uguale ok allora fermo un istante qui infatti mi mettere in pausa questo sì perché deve far partire la simulazione può volerci qualche istante dipende evidentemente dalla macchina ok certo allora in traiettoria mettiamo l'input sono le x e le y dell'elettrone quindi mettiamo solo qua x e y poi cambiamo solamente il colore line color io ho messo magenta ma potete mettere un altro e lo stroke che ho messo a 3 anziché niente se mettiamo se fosse niente sarebbe 1 e viene un tratto un po' più sottile ma si vede lo stesso comunque ok ok bene eventualmente si potrebbe anche aggiungere un titolo che appare in grande ma questo magari lo facciamo dopo ok questo è quello che che ci interessa vedere mettere per visualizzare il nostro sistema cioè la carica centrale positiva la carica laterale negativa e il moto della carica negativa dell'elettrone attorno al nucleo quando mandiamo in esecuzione il programma il programma parte immediatamente ok sarebbe utile avere dei comandi per istruire il programma a dire parti quando te lo dico io non partire subito per far questo abbiamo bisogno di aggiungere la nostra simulazione alla nostra grafica quindi nel nostro frame metteremo un altro pannello dove vengono riportati dei comandi come per esempio play pausa reset cioè ricomincia oppure vai avanti un fotogramma alla volta per esempio d'accordo che può essere utile in tanti casi per far questo e poi per oggi ci fermiamo andiamo sempre nel menu interfaccia andiamo nella terza icona sotto non so se volete vedere se la riuscite a vedere la pannello che è un pannello basico cioè la cosa più semplice di tutte clicchiamo su quello e portiamo il pannello attenzione all'interno del frame principale perché questo non deve stare dentro il menu grafico ma vado sopra il frame di partenza quello che si chiamava e mi ha chiamato moto cariche 01 clicco su questo e mi dice come vuoi chiamarlo beh lo chiamo comandi perché è un pannello comandi vedi che questo lo fa a fianco e ha creato sotto un'area vuota dove metteremo il pannello comandi nel pannello comandi doppio clic possiamo lasciare stare tutto il resto ma anziché un layout border scegliamo un layout dove i comandi saranno allineati orizzontalmente quindi lo chiamiamo gli diamo un formato a scatola orizzontale horizontal box la seconda opzione clicco su ok e poi chiudo questo dopodiché all'interno del pannello comandi metteremo i vari comandi che sono dei bottoni tecnicamente premendo i quali attivo determinati do determinati ordini al computer come per esempio l'ordine vai in esecuzione play oppure mettiti in pausa oppure ricomincia reset i bottoni si trovano nel menu interfaccia selezioniamo la terza etichetta da sinistra questa dove ci sono tutti i bottoni possibili e andiamo sul terzo la terza icona button ok cominciamo con uno lo seleziono una volta sposto il mouse sopra il pannello comandi e clicco una volta e mi dice crea un bottone come vuoi chiamarlo lo chiamo play clicco su ok e mi crea il bottone play per darne le proprietà doppio clic su play e mi dice il testo è play che mi va bene mettiamoci anche un'immagine quale immagine vuoi? beh di solito il play è la freccetta a sinistra questa poi le altre opzioni la possiamo lasciarle stare invece quello che è importante è dire qual è l'azione che deve fare questo tasto cioè il menu action qui anziché scrivere in questo in questo in questo riquadro posso andare sulla seconda icona quella con gli ingranaggi che mi dice tutte le opzioni possibili clicco una volta e la prima è quella che ci serve play e qui c'è il comando la scrittura corretta in java del comando play che è underscore play parentesi tonda aperta e poi chiusa clicco su ok e il gioco è fatto ok chiudiamo questo ok per rendere operativo questo ok per fare in modo che il play abbia un senso torniamo su model in evolution vedete che in fondo qui sotto c'è autoplay spuntato questo significa quando il programma parte va immediatamente in esecuzione allora questo va tolto in questo modo il programma andrà in esecuzione cioè farò partire quel tasto verde qui a destra faccio la faccetta verde faccio mando in play il programma ma lui aspetterà che io clicchi sul tasto play prima di partire andiamo a vedere che cosa intendo esattamente salviamo freccia verde come viene compilato EJS produrrà la finestra grafica ecco però adesso vedete che l'elettrone non si muove più sta fermo è in attesa che lui gli dica party e gli dico party con il tasto play a quel punto lì comincia i calcoli l'evoluzione e la rappresentazione grafica dei calcoli che ha fatto qui il tasto play purtroppo ci permette solo di mandare in esecuzione non di fermare o di riavviare e sono i prossimi comandi che metteremo saranno proprio quella quella funzione d'accordo clicco di nuovo sul tasto rosso quindi fermo il programma e direi che per oggi ci possiamo fermare qui di riavviare che per oggi